Musica Benvenuti, oggi 9 gennaio, il santo del giorno è San Giuliano, tre personaggi famosi nati in questo giorno, ricordiamo il cantautore Domenico Modugno. Ed ora passiamo all'oroscopo. A diete, data l'odierna posizione degli astri, sarete ben disposti per dei cambiamenti nel lavoro, cercate di vedere bene cosa scegliere prima di prendere la decisione finale. Toro, la vostra mente è rivolta altrove e non sarà facile trattenerla sugli impegni di lavoro, i risultati di conseguenza saranno piuttosto scarsi, in serata avrete l'occasione attesa. Gemelli, l'andamento incerto del lavoro non vi creerà preoccupazioni, vi renderete conto che sono necessarie delle formule nuove per ritrovare un nuovo equilibrio. Cancro, sentirete il desiderio di dare il meglio di voi stessi e per questo sarete disposti ad impegnarvi in un progetto dalle scarse possibilità di successo, molte soddisfazioni in amore. Leone, giornata abbastanza importante e fruttuosa per quanto riguarda l'attività professionale, impegnatevi di più nel rapporto di coppia, sono da evitare le impuntature, incontri. Vergine, sono sempre maggiori i contatti che riuscite a stabilire nel vostro lavoro, essi costituiranno la base del vostro successo, non vi ostinate a rimanere sulle vostre posizioni. Bilancia, state elaborando importanti progetti da concretizzare in futuro, per quanto riguarda l'amore anche oggi non mancheranno colpi di scena e tuffi al cuore. Scorpione, comportatevi con equilibrio e lungimiranza nel prendere una delicata decisione di lavoro e cercate anche di dare il buon esempio, accettate un invito per la sera, incontri. Sagittario, vi saprete muovere con grandi abilità, ma ciò nonostante non bisogna forzare nulla, con calma riuscirete meglio nei vostri intenti, piccole gioie personali in famiglia, pazienza. Capricorno, saprete disporre ed organizzare molto bene, basta non lasciarsi distrarre da questioni secondarie, per alcune questioni bisogna saper fare delle scelte precise, un invito. Acquario, scrollatevi responsabilità che non sono vostre, cercate di rimanere al vostro posto, portando avanti nuove idee nel lavoro, in serata avrete una piacevole sorpresa. Pesci, siete insoddisfatti e insofferenti verso regole e comportamenti condivisi fino a poco tempo fa, siete immersi in una realtà di cui vi sfuggono i veri valori. Proverbio del giorno, a nemico che fugge, ponti d'oro. Questo è tutto per oggi, arrivederci a domani. Grazie.